Il comandante generale della gioventù italiana del Littorio, Sua Eccellenza Starace, ha tenuto rapporto al campo sportivo generale Albricci a 2200 ufficiali e sottofficiali che hanno curato l'istruzione di oltre 52.000 giovani inquadrati nella premilitare. Nella tessa giornata Sua Eccellenza Starace è inaugurato la scuola di equitazione 28 ottobre dove i gregari della gioventù italiana del Littorio verranno istruiti nella scuola e nella pratica di uno sport tra i più nobili e salutari.